La musica è la loro passione. Quattro giovani ragazzi, tutti di Gela, i Kids of Grooves, nonostante le tante esibizioni all'interno di numerosi locali gelesi, non sembrano essere stati presi sul serio, ma i ragazzi non si sono persi d'animo e grazie alla loro intraprendenza sono riusciti a farsi produrre addirittura da una casa discografica austriaca e in un solo giorno sono diventati più popolari tra le band emergenti dell'app musicale iTunes. E la bella favola dei Kids of Grooves, i giovani artisti gelesi che dopo varie delusioni nella loro città sono riusciti a trovare fortuna altrove. Già ospiti in alcune tra le discoteche più famose di Milano hanno dimostrato le loro capacità e non intendono certo fermarsi, visto che hanno già in programma una manifestazione musicale in Croazia. Il nostro progetto si chiama Kids of Groove e il motivo del nome deriva dal non farci suonare perché siamo troppo piccoli nelle varie discoteche, nei vari locali di Gela perché veniva detto non possiamo fare suonare i bambini e cose del genere. Da questa motivazione nasce questo nome un po' denuncia Kids of Groove. L'unica cosa che dobbiamo fare è quella di lavorare ancora perché è una passione molto grande e vogliamo trasmettere a tutti la magia della musica e l'amore che abbiamo noi per la musica. Ho iniziato a suonare con questo ragazzo qui che poi abbiamo, cioè suoniamo sempre insieme e il termine tecnico si chiama back to back, infatti siamo conosciuti così. Il calcio è per me la passione grandissima ma la musica non è da meno perché mi trasmette emozioni che tante altre cose non riescono a trasmettermi. Abbiamo suonato a Milano, all'Hollywood di Milano, alle galle, nelle marche, quindi adesso aspiriamo ad altro.